no sta registrando quando? si e poi per riprenderla ok sta registrando la devo tenere dritta in sostanza vabbè e si sente l'audio tutte cose la cassa questa va messa così si questa ha la risoluzione fino a 1080p 30 frame per secondo bella questa ma che cos'è? è una webcam sotto lì è 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